buonasera a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento del punto oggi parlerò di una cosa che essendo come operaio come lavoratore mi sta a cuore e dobbiamo analizzarla abbastanza bene è l'accordo sull'ilva dove questo accordo viene sbandierato come un successo dalle organizzazioni sindacali cgl csl will e anche usb dove non si perde nessun posto di lavoro dove è un successo su tutta la linea bene se voi chi mi segue o chi mi segue saltoriamente ho affrontato questo problema delle trattative sull'accordo dell'ilva a gennaio di quest'anno dove dicevo che faceva una scommessa vediamo a fronte della richiesta dei nuovi acquirenti di 10.000 di rimanere sui 10.700 lavoratori su 13.500 che erano quanti ne sarebbero rimasti ebbene sono rimasti 10.700 come vuole la la proprietà entrante ma a questa previsione non lo facevo perché io sono un veggente no non è questo il parametro che viene adoperato il parametro è semplice per chi conosce o dice di conoscere come funziona questo sistema il parametro è questo questo sistema deve produrre sempre di più e di per diminuire il costo di lavoro per unità di prodotto e questo riduzione della del quantitativo di costo di denaro per unità di prodotto non si può che fare aumentando la produttività inserendo nuove nuove tecnologie in modo tale che si riesca a produrre di più per con meno lavoratori perché in fondo è lì dove viene dove dove si ricava il profitto e il denaro e di conseguenza se si produce la stessa quantità aumentando la diminuendo i lavoratori è chiaro che il prezzo dell'unità di prodotto diminuisce perché perché siamo in una società dove questa società viene basata sulla produzione di massa cioè dobbiamo produrre sempre di più indipendentemente dai bisogni dell'essere umano o da quello che questa che la natura no ci ci può dare perché la sioma della produzione di massa la sioma vecchio la sioma che nasce nel 1789 con la rivoluzione francese dove si deve produrre di più per dare accesso alla massa ai prodotti che vengono creati oggi però siamo arrivati a una situazione di non ritorno cioè si produce di più depauperando la natura dimenticando che noi come esseri umani dipendiamo completamente dalla natura la facciamo i scempi più grandi che ci sono perché dobbiamo produrre sempre di più in nome del profitto allora torniamo a vedere un po cosa cosa dice questo accordo allora questo accordo dell'iva prevede 10.700 assunzioni sugli attuali 15.000 13.522 dipendenti la differenza sono 2822 in meno alla faccia delle organizzazioni sindacali quali hanno detto abbiamo salvato l'occupazione e poi vi spiego come un sindacato dovrebbe dire no allora con l'impegno però di arcelotto mittal ad assumere senza condizioni dal 2023 al 2025 tutti gli esuberi che dovessero attenzione c'è il condizionale dovessero risultare dopo il piano di esudi incentivati per il quale il mise mette a disposizione 250 milioni pari a 100 mila euro lordi pro capite fino a 2.500 dipendenti in pratica cosa si dice 2.500 dipendenti non entrano nell'accordo dell'arcelotto mittal stanno in cassa integrazione non so non gli faranno fare niente questi vengono sovvenzionati per 100 mila euro lordi pro capite fino al 2025 pagati da chi dal mise cioè soldi della collettività soldi nostri proletari e quindi senza nessun vantaggio per la classe operaia in generale ma parliamo dell'arcelotto mittal quindi voglio dire un sindacato che si dice tale doveva dire 200 2.500 dipendenti rientrano anche loro nel pacchetto generale delle assunzioni perché dobbiamo rimanere 13.522 e casomai i 100 mila euro pro capite vengono adoperati per ridurre l'orario di lavoro in generale questa sarebbe stata non una vittoria ma semplicemente un modo di difendere nei confronti dell'attacco che viene portato oggi dal capitale nei confronti della classe lavoratrice abbiamo diciamo tenuto se così si vuol dire no tenuto nei confronti di di questo attacco invece no si sta a dire che è stato un successo abbiamo salvato l'occupazione ma con quali garanzie nessuna garanzia nessuna garanzia perché dopo un anno due anni ci possiamo ritrovare nella stessa situazione perché il mercato magari non tira più perché il mercato non assorbe più la quantità che si prefigge l'azienda entrante di produrre o alcelott mittal è una delle più grosse produttrice di acciaio e potrebbe benissimo comprare taranto nessuno mi può smentire su questo no e dire poi chiudo il tutto no perché la produzione che fa taranto la posso fare o auto automatizzando un altro sito lo faccio fare da quella parte quindi non c'è nessuna garanzia quindi anche quei lavoratori i 10.700 che sono rimasti magari si illudono che si possa andare avanti tranquillamente chissà per quanto no a lavorare non è vero io da una parte capisco i lavoratori che sono messi nella condizione o lavori o muori subito di fame o rischi di morire perché sappiamo che l'ilva è altamente inquinante o rischi di morire di cancro fra dieci anni va beh rischiamo di morire fra dieci anni sperando che non capiti a noi infatti questo accordo ha spaccato anche il movimento 5 stelle che attraverso il vice premier è uno dei due cioè quindi quello del movimento 5 stelle dice il miglior accordo nelle condizioni peggiori non è vero non è il migliore accordo è quello che volevano le aziende e così è stato dato i lavoratori posso capire ma non posso capire le organizzazioni sindacali che vabbè loro vivono per gli accordi quindi si devono fare sempre accordi altrimenti loro non possono esistere ma a fronte di tutto quello di tutto quell'inquinamento che c'è stato di tutte quelle lotte che si sono state per l'ambiente no di di questo non se ne parla assolutamente o ce ne sono o ce ne è semplicemente qualche qualche accenno e infatti infatti anche l'organizzazione aspettate un attimo che trovo mi dispiace che trovo l'articolo si parlava di eccolo qua dove si parlava dell'accordo dell'ilva dove per esempio è una cosa molto grave su sul fatto quotidiano di taranto si scrive si scrive che mentre le organizzazioni sindacali festeggiano in occasione della giornata nazionale la custodia del creato si muovono perfino i cattolici su questo non perché ce l'abbia contro i cattolici ma perché hanno una visione un po' diversa dalla mia ma comunque hanno evidenziato che l'accordo attenti attenzione lascia immutato il timore che nulla possa cambiare sul piano della salvaguardia della salute dell'ambiente tutto lascia pensare questo non lascia sereni e si legge nel documento il permanere dell'immunità penale a estesa a chi gestirà lo stabilimento quindi avranno l'immunità penale per quanto riguarda l'inquinamento non offre motivo di tranquillità l'assenza di sanzioni pecuniarie nel caso di mancata osservazione delle prescrizioni come l'assenza di rassicurazione in merito alla pericolose polveri diffuse chiediamo una sorveglianza da parte degli enti per posti troppi giovani vite spezzate troppo dolore inconsolabile non verremo hanno concluso vorremmo continuare a registrare tristi primati quindi anche sul tema non solo occupazionale è stato perso ma anche nel tema ambientale molto sentito a Taranto sta di fatto che i due consiglieri di Movimento 5 Stelle a Taranto di cui uno era operaio lascia il Movimento 5 Stelle e entra nel gruppo misto in consiglio comunale sappiamo quanto era sentito il problema ambientale a Taranto e a fronte di tutto questo cioè anche dell'immunità dell'immunità perché non sarà perseguito se le cose non cambiano o non verrà fatto assolutamente niente ma sul piano ambientale io vi leggo un trafiletto che è apparso proprio lo stesso giorno del sbandieramento dell'accordo di un successo da parte dell'organizzazione sindacale un trafiletto apparso sul manifesto è quotidiano il manifesto per riporta questo Francia Mittal sotto processo al cielo Mittal dovrà rispondere di gestione irregolare dei rifiuti industriali lo ha deciso venerdì il tribunale di Tonville in Mosella l'indagine aveva preso avvio lo scorso anno dopo che era circolato un video nel quale si documentava come da un camion dell'azienda proveniente dal vicino complesso siderurgico di Florence fosse stato versato nelle campagne della zona un misterioso liquido giallastro l'autore del video lo stesso autista del veicolo un lavoratore interinale che ha accusato il gigante siderurgico di aver smaltito così dei resti dell'acido utilizzato per trattare l'acciaio e di non operare alcun riciclaggio dei propri prodotti chimici ecco siamo in presenza di questi personaggi di questi tipi io su questo sono abbastanza critico anzi per me è negativo l'accordo che è stato fatto prima perché dicevo si poteva tentare come organizzazione sindacale di ridurre l'orario di lavoro mantenendo all'interno dell'azienda quelle 2800 persone che vengono tenute in cassa integrazione e pagate per non lavorare perché la riduzione dell'orario di lavoro avrebbe scatenato un meccanismo tale che anche altri lavoratori potevano pensare che è giusto ridurre l'orario di lavoro e siamo schiavi salariati non possiamo pensare che si possa vivere meglio in questa società e lo spiega meglio di tutti il discorso della riduzione del personale all'interno della fabbrica la nuova Venezia dell'8 settembre dove dice perché ci sono lavoratori dell'ILVA dell'Alcelot Mittal adesso lo dice chiaro saranno 50 su 66 i lavoratori del sito logistico di ILVA a Marghera che passeranno ad Alcelot Mittal entro dicembre 2018 quindi 50 su 66 passeranno alla nuova ILVA gli altri 16 dovremmo invece scegliere se rimanere in cassa integrazione straordinaria in attesa di un ritorno al lavoro o accettare un incettivo all'uscita di 100.000 euro a persona quindi per l'accordo siglato della giornata di mercoledì in sede del Ministero di Sviluppo Economico alla presenza dei sindacati delle nuove proprietà prevede infatti il distacco finale nelle prossime settimane di 10.700 lavoratori su più o meno 14.000 ad Alcelot Mittal mentre entro la fine del dicembre 2018 i lavoratori saranno contrattualizzati a pari salario e le medesime condizioni normative sulla nuova azienda per gli altri 3.000 circa di cui 16 attualmente in forza Porto Marghera si apre o la via di una cassa integrazione o questi vanno in cassa integrazione straordinaria in attesa di una proposta dell'azienda che si è impegnata ad offrire una a tutti entro il 2013 o quella di un ricco incentivo all'esodo circa 100.000 euro che si diluva a 5.000 euro ogni 3 mesi di cassa effettivamente utilizzata quindi già erano stati ridotti i lavoratori da 80 a 66 adesso diventeranno 50 questi lavoratori ripeto saranno pagati con i soldi del mese che sono circa 250 milioni per il mese cioè soldi di tutti soldi di noi lavoratori perché poi alla fine siamo noi che finanziamo perché questa azienda butti fuori dei lavoratori vabbè lasciamo stare singolarmente perché uno gli può andare bene a prendere i 100.000 euro ma nessun vantaggio per la classe operaia ma il vantaggio cioè l'obiettivo era quello dell'azienda che voleva quei lavoratori quella quantità di lavoratori e ancora una volta ce l'hanno vita d'altronde con queste organizzazioni sindacali dove possiamo andare non andiamo da nessuna parte questo a fronte di adesso prego alla regia di mettere in onda un link che riguarda una conferenza che è stata fatta al Politecnico di Torino su ricerca e innovazione questa ricerca dove ci sono degli scienziati i quali dicono molto bene questi scienziati sono Ezio e Andretta che nella sua relazione osserva che la società attuale è spinta perché questi sono i rapporti sociali su questo è fondata sull'aumento in continuazione della quantità non vista sotto un altro parametro dell'umanità eccetera e quindi ha proiettato una slide dove si vedeva chiaramente che dal 2008 in poi ogni investimento che viene fatto nella industria per produrre di più è un investimento per creare disoccupazione non lo dico io lo dice uno scienziato che ha fatto questi studi ma vi leggo un po' la relazione che è stata fatta da N più 1 su una teleconferenza perché N più 1 questa organizzazione che tutti voi potete vedere sul leggere sul loro sito www.quinterna.org e fanno queste teleconferenze il martedì sera dove riporta chiaramente a breve quindi sintetizzano questa videoconferenza dice che il professor Elzio Andretta oltre a mostrare questa slide ma dà un'impressione ma dà uno spaccato molto ampio dicendo che questa società ormai o si va oltre a questa società o si vede una società diversa o altrimenti c'è l'autodistruzione osserva che la società attuale ricava le sue risorse togliendo la materia intorno ad esse per il petrolio trivella ed estrae quindi toglie materia per ricavarne qualcosa per il ferro scava gallerie per fare stuzzicadenti da alberi taglia a taglia fino a fare stuzzicadenti invece questa società invece oggi c'è quando invece una società che mettesse in pratica schemi di equilibrio dovrebbe comportarsi in maniera opposta e cioè aggiungere materia e informazione e non sottrarla e faceva l'esempio delle stampanti 3D e 4D dove la materia che serve viene aggiunta e non si fa come oggi spreco scarti e via dicendo nella seconda parte c'è Roberto Cingolani fisico e direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova descrive la possibilità di trattare le questioni sociali con metodi di scienza fisica e di modelli matematici utilizzando un approccio termodinamico per spiegare lo stato del sistema mondo lo studioso fa inoltre notare agli studenti presenti in aula e questo è molto interessante che i suggerimenti da lui proposti altri non sono che toppe toppe lo ripete parecchie volte andate a vedere quella quella video quella conferenza mentre la soluzione radicale sarebbe mettere in moto dei cicli virtuosi dell'energia quindi continuano quelli di N più dicendo che per studiare una società a venire una società migliore occorre proiettarsi in quella società ed operare delle astrazioni anche perché come afferma Marx nella prefazione della prima edizione tedesca del capitale i rapporti economici non sono comprensibili in altri modi l'uomo capitalistico che siamo un po' tutti noi e quindi anche i lavoratori dell'ILVA ragiona della sua società rimanendo della superficie dei fenomeni quindi quei lavoratori sono convinti che la situazione si sistemerà e continueranno ad andare avanti così poi una volta sistemata come adesso ma io come lavoratore del petrolchimico potrei assicurare e dire a loro guardate non è così non è così perché non funziona così questo crea dei problemi difficilmente superabili l'analisi delle stime sui costi e benefici muove gli uomini politici che gettano ed implementano le politiche allo sviluppo e gli interventi ambientali nei due emisferi in caso di successo questi piani funzionano mentre come rimedi temporanei se faliscono provocano l'aumento del disordine sociale e modificano ulteriormente lo sviluppo da attività umane e capacità di carico della biosfera cioè cosa vuol dire vuol dire che se va bene la soluzione non è niente altro che mettere una toppa una toppa mentre il sistema continua ad andare avanti e creare squilibri se invece va male aumenterà ancora di più lo squilibrio di questo di questo pianeta che sentendo questi due scienziati è peggiore la situazione di quanto ce la raccontano questi politici fra virgolette il movimento 5 stelle con Di Maio parlava tanto di ambiente ma finora non ha fatto assolutamente niente volendo attenzione ci si potrebbe entrare nei metodi utilizzati per l'analisi dei costi benefici l'avete sempre sentito dire questo costi e benefici sia nella TAV sia nella Genova nel ponte che è caduto ma anche con l'accordo dell'ILVA ma basta riflettere su quanto sia pervasiva questa visione migliaia di studi commissionati usano come il metro il pezzo monetario per indagare i fenomeni più disparati i quali spesso hanno un legame di causazione molto più forte con altri fattori di tipo fisico esempio ecologico studi correlati al PIL pro capite della salute eccetera arrivando a conclusioni paradossali cioè questi fanno semplicemente i conti con denaro senza fare i conti con le quantità fisiche senza fare i conti con l'ambiente in cui viviamo allo stesso modo le questioni ambientali vengono affrontate con miopia mercantile l'esempio è questo il problema del quantitativo di CO2 nella atmosfera è il rispetto degli impegni presi per il protocollo di Kyoto sono stati risolti dai funzionali del capitale impersonale determinando un prezzo per il diritto di inquinare basato ovviamente sul mercato delle quote e non su criteri tecnico-scientifici nei costi dei benefici tutto si compra anche la quantità di queste nazioni più ricche di comprare la quota di quelli di CO2 di quelli che non non riescono a sforarla pensate con questi metri come si può affidare di queste persone come si può affidare di queste persone le leggi fisiche operano indipendentemente dai rapporti sociali quindi le leggi fisiche operano indipendentemente se il sistema capitalistico di produzione è quello che noi viviamo il denaro non comunica le ore di lavoro non dice chi e come ha prodotto una determinata merce infatti non ci poniamo il problema quando è supermercato quanto lavoro e chi è andato a raccogliere i pomodori perché costino quelli quante ore di lavoro quanto è stato pagato il denaro non ci comunica questo il denaro ci comunica che costa quello punto e basta se sono morti dei bambini che lavorano quelli del terzo mondo per dare a noi questi questi oggetti a poco prezzo non ci comunica nell'impronta ecologica ed energetica che tale produzione ha sulle risorse del pianeta non ci comunica quanti chilometri hanno fatto le angurie che vengono dal Senegal perché costano meno o quanto i pomodori vengono dalla Cina e quanti ci sono ci è costati no non ci comunica questo denaro e prezzi sono categorie economiche transitorie non possono spiegare l'entropia nel ciclo dell'azotto o dell'acqua se lo scambio diventa non necessario cioè non c'è in questa società c'è bisogno dello scambio perché attraverso lo scambio si crea profitto attraverso lo scambio si ha quello per cui viene prodotto si crea cioè il profitto quindi se se lo scambio diventa non necessario se non c'è questo scambio l'uomo può permettersi di spiegare i processi di produzione in termini di grandezze fisiche qualsiasi attività può essere convertita in misura unità di misura fisiche siano i litri chilogrammi o altre cose una tavola di flussi dell'energia input ed output è molto più utile che in ogni ragionamento in termini di valore almeno dal punto di vista della teoria rivoluzionaria e finiscono così con un bel esempio ma non lo diciamo non lo dicono quelli N più non sono tutti quelli illuminati quelli scienziati illuminati che lo dicono negli anni 30 immediatamente dopo il 29 negli USA si è andato sviluppando il movimento tecnocratico questa corrente sosteneva la possibilità di utilizzare l'equilibrio energetico come misuratore delle attività umane passare cioè da una misurazione in termini di valore cioè quindi del denaro del profitto ad una in quantità fisiche tale movimento suscitò interesse anche in Europa tanto che nel 1933 Virgilio Dagnino pubblicò un saggio intitolato Tecnocrazia in cui scrive e vorrei un po' di attenzione su quello che vi sto leggendo cosa succede oggi l'industriale esamina la crisi in termini di costi e realizzi il banchiere in termini di cambi e di corso dei titoli il commerciante in termini di andamento dei prezzi l'organizzazione sindacale in termini di salari l'economista in termini di movimento di oro i tecnocratici dicono no lasciamo stare tutte quelle ingombranti manifestazione del price system sistema di prezzi la crisi è determinata da uno squilibrio tra la capacità di produzione degli impianti e la possibilità di consumo da parti delle masse studiamola quindi direttamente in questi suoi elementi essenziali e l'energia prodotta o consumata sia la nuova unità di misura e qui finisce la citazione non si può risolvere il problema dell'equilibrio energetico del pianeta ragionando in termini di prezzo valore e profitto bisogna passare alla fisica della storia e abbandonare l'economia politica ecco questo è il messaggio forte che dovrebbe venire fuori dall'ilva ed è questo che il messaggio che io vi propongo e tutti noi che siamo coscienti di questo che ci teniamo all'ambiente che ci teniamo a una società diversa basata sulle quantità fisiche dire basta con questo sistema basta con questo sistema che ci sta uccidendo tutti grazie per l'attenzione ho finito e alla prossima ciao ciao